Capodanno in piazza Blindato, mentre il conto alla rovescia è già iniziato e il Politiama, da questa mattina gli organizzatori sono al lavoro per montare il megapalco da 20 metri che accoglierà tra gli altri la regina del pop Elodie, è scattata la maxi operazione sicurezza per il concertone costato al comune 465 mila euro tra servizi, attrezzature e il cascia degli artisti. Il tetto massimo di Capienza a piazza Castelnuovo sarà di quasi 10.000 persone contemporaneamente conteggiate dagli addetti alla sicurezza con un sistema di prefiltraggio e filtraggio all'entrata e all'uscita. Il comune intanto pensa al piano di viabilità, l'ufficio traffico e mobilità ordinaria hanno ufficializzato l'ordinanza con la quale vengono disposte alcune limitazioni alla circolazione pedonale e vecolare tra piazza Ruggero VII e le vie limitrofe. Per garantire la sicurezza dei pedoni e degli spettatori in via Libertà è sospesa la circolazione e lunghe percorsi ciclabili individuati sui marcepiedi nei tratti tra piazza Ruggero VII, piazza Crispi, piazza Mondini e piazza Castelnuovo. Da sabato 30 dicembre inoltre per ragioni di sicurezza pubblica saranno rimossi gli stalli e gli alloggi di biciclette e monopattini che non potranno comunque circolare così come stabilito dal piano di sicurezza vagliato dalla Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo. Altre misure di sicurezza invece saranno vagliate semplicemente per garantire proprio nell'occasione del concerto la massima sicurezza per tutti gli spettatori onde evitare le ultime risse e gli ultimi fatti di Kronach che hanno interessato il centro storico.